In importante in presa per la Juventus, nella gara di andata dei morti di finale della Champions League, la formazione bianconera allenata da Messimiliano Allegri ha battuto niente meno che il Barcellona di Luis Enrique con il punteggio di 3 a 0. Grazie alla doppietta di Dybala, due veri gol europei, il primo al settimo minuto, il secondo al ventiduesimo, poi al decimo della ripresa arriva il terzo gol da parte di Chiellini. Anche il portiere bianconero Pompone si è reso protagonista con una doppia parata. Il tecnico bianconero Allegri dice non bisogna frenare gli entusiasmi, siamo coscienti che abbiamo fatto una ottima partita. Non faccio percentuali sul passaggio del turno, dico solo che al Camp Nou dobbiamo segnare. Partita di ritorno il prossimo 19 aprile nella cittadina catalana. Mimmo Siena, Speciale News.